La prima domanda era questa, una delle risposte precotte che mi vengono fornite dai politici quando si parla di euro e di uscita dall'euro è noi italiani non sfruttiamo i fondi dell'Unione europea, quindi non serve uscire dall'euro. La risposta di Deposso Pages è questa, i fondi europei sono del tutto insufficienti per ricostruire l'Europa e l'uso dei fondi europei è strettamente controllato dalla Commissione europea, quindi non bisogna assolutamente che questi fondi europei vadano a contrariare la messa in atto della politica di austerità. Seconda domanda, che ruolo può avere Mélenchon all'interno del governo Hollande, può portare un parziale spostamento a sinistra dalle politiche francesi? La risposta è personalmente penso che tutto sia possibile nello scenario politico francese, ma per ora tutto dipenderà da quello che succederà fra un mese, ovvero le legislative in Francia e anche dal numero di voti che raccoglierà il rassemblement de gauche. Poi c'era un'altra domanda, da dove provengono i dati di Parghès sull'economia di Francia, Germania e USA, allora i dati per quanto riguarda gli Stati Uniti sono tratti da studi e statistiche ufficiali del Congress Budget Office e dell'American Office of Labor, per quanto riguarda la Francia più o meno le fonti sono le stesse, ovvero i dati che sono pubblicati dal Ministero degli Affari Sociali, per quanto riguarda la Germania sono i dati del consigliere economico presso la cancelliera. Poi, terza domanda, in base a che cosa le banche prestano o non prestano solvi alle aziende e in base a cosa vengono decisi i tassi di interesse? Le banche decidono in base alle scommesse che fanno o accettano sul successo o meno delle proiezioni e delle aspettative delle aziende. Per quanto riguarda i tassi di interesse, i tassi di interesse sono stabiliti dalla banca in base all'obiettivo che si dà alla banca di accumulare risorse e quindi la banca centrale non ha più nessun controllo oggi sui tassi di interesse effettivi. Qualsiasi banca centrale? Quarta domanda, definire meglio il ruolo dello Stato e la banca centrale all'interno delle politiche di spesa positiva del circuitismo, il ruolo della crescita delle spese statali dedicata agli investimenti di lungo termine per creare ricchezza umana e non umana, questo ruolo è la condizione di esistere per una vera crescita di lungo periodo che realizzi la piena occupazione e che massimizzi il livello di benessere. Queste spese sono ovviamente il riflesso del, fra virgolette, buon deficit, buon disavanzo, ovvero sono quelle spese che si manifestano, prendono forma nell'economia moderna attraverso la creazione netta di moneta nei bilanci bancari per il settore privato complessivamente. Quando lo Stato ha il controllo sulla banca centrale, le banche non svolgono più il ruolo di intermediario di ultima istanza. Poi il mercato finanziario, cioè in altri termini, il mercato finanziario non svolge più alcun ruolo in questo caso e il problema del debito pubblico non esiste più. Quinta domanda, con l'MT lo Stato crea ricchezza netta mettendo moneta a deficit senza chiedere un ritorno economico. Con la teoria del circuitismo come è possibile creare ricchezza netta se da quanto ho capito le banche quando prestano moneta alle imprese poi chiedono indietro lo chiedono indietro come se fosse un vero debito. Il circuito significa questo, Parghese dice sono interamente d'accordo con quanto è stato detto, personalmente sono giunto alla stessa conclusione, sono stato il primo quindi ad appoggiare questa proposta e questo significa che mai il circuitismo così come fu concepito all'inizio degli anni 80 aveva chiesto che lo Stato fosse sottoposto allo stesso trattamento delle aziende private. Sesta domanda, attacco speculativo la lira nell'82 per imporre l'entrata nell'euro e l'austerity e attacco oggi speculativo al debito italiano per imporre misure di austerità e privatizzazioni. Senza politica monetaria siamo fregati, la risposta è sì e quindi a mio parere, per quanto riguarda io sono in disaccordo con i post chienesiani sull'unico ruolo della politica monetaria che deve essere ausiliare alla politica di bilancio. Il problema è che oggi la BCE non serve più a nulla. Ecco ci sono due domande qua. Allora, dai facciamo 10 minuti, facciamo 10 minuti. Ma quella ragazza dei 5 euro dov'è? Allora, no, c'è una domanda. Questa ragazza ha chiesto... C'è, c'è. È qui dietro? È qui dietro? Non ha fatto una parte. No, no, non so. Allora, ci sono 3 domande. 10 minuti ce la facciamo. Dai, la prima di questa ragazza che aveva chiesto... Com'era la domanda, no? Cioè io ho 5 euro in tasca, questi 5 euro chi li emette? Qual è esattamente la strada che porta dal nulla la creazione di questi 5 euro che mi arrivano? In un minuto. C'è? Sì, c'è. Le borche. Aspetta, aspetta, fate un attimo. È dietro? Due parole, le banche. Ha già risposto, le banche. Se volete, due volte. Eh, non c'è. Che poi è la sua. Le banche. Le banche. Ok. Quindi la risposta è le banche. Ma lei vuole sapere un po' di più, insomma. Eh, però vuole sapere un po' di più. Eh, no, ma voi non lo sapete. No, no, perché voi non lo sapete. Lo rispondo io. No, no, non lo sapete. No, voi non lo sapete. No, ma in parte è vero che non lo sapete. No, ma in parte è vero che non lo sapete. Ok. So, go ahead. No, ma in parte è vero che non lo sapete. No, ma in parte è vero che non lo sapete è vero che non lo sapete. No, ma in parte è vero che non lo sapete. Ah, l'italiano, scusate. Allora, chi per primo emette moneta? Qual è la priorità, BCE o Stato? In che senso il circuitismo non è cartalista? Qual è la funzione che il circuitismo riconosce allo Stato, dato che l'emissione di moneta al netto compete alle banche? Non, ma in parte è vero che non lo sapete è vero che non lo sapete è vero che non lo sapete è vero che non lo sapete. ha il controllo della banca centrale, ha sa banca centrale. Bon, là, questo mi sembrava indegnabile. Aujourd'hui, la banca centrale europea è come le monarque absolu, non ha nessun rôle in la creazione moneta. Mi prenderà delle ore per sviluppare questo punto. Ok, avrà bisogno di ore per poter sviluppare questo punto. Comunque, molto rapidamente, a chi compete l'iniziativa di creare moneta, compete alle banche, quando lo Stato ha il controllo sulla banca centrale, quando lo Stato dispone della sua banca centrale. Questi sono dati inconfutabili. E oggi la BCE è un po' come un monarca assoluto, ovvero privo di ogni ruolo della creazione monetaria. Allora, quindi ... ... ... la valore dell'argento e ha redonato la valore o bien qui hanno par contre delle limiti evidente e che hanno una verità valore io parvo non a déchiffrare la questione la domanda è molto lunga comunque dato che l'inflazione ha tendenza a zerare il valore del denaro e a ridare valore ai beni eccetera non bisognerebbe utilizzarla come cavallo di battaglia invece che averne una paura fottuta brevemente due point premièrement l'inflation galopante n'a jamais existito che in situazioni di catastrofe e di effondimento total di l'Etat c'è il caso dell'Allemagna in 1919 in 1945 in 1946 e di la russi in 1918 a par cela n'a mai n'y a eu di inflazione galopante 2 qui decide des prix ce sono les entreprises e l'Etat e io sono pronti a morire su questo punto l'inflazione e salarii non sono per niente assolutamente per niente nell'inflation se l'on veut l'inflation la stabilità reale dei prix il faut atteindre le plein emploi permanente per quanto riguarda questa domanda due punti molto rapidamente l'inflazione galoppante non è mai esistita tranne in situazioni catastrofiche in cui crolla completamente lo Stato come la Germania del 1945 e la Russia nel 1918 altrimenti al di fuori da questi esempi l'inflazione galoppante non esiste poi seconda cosa chi decide i prezzi i prezzi vengono decisi dalle aziende e dallo Stato e sono pronto a morire su questo punto dice Parguesso i lavoratori non hanno niente a che vedere con l'inflazione se si vuole la stabilità dei prezzi bisogna aggiungere alla piena occupazione permanente e poi la terza domanda se vuole citar la complicità dell'Opus dei o potre la preuva di l'Opus dei La domanda è le fonti sulla complicità tra l'Opus Dei e l'idea di Hayek, quali sono le fonti a scopo divulgativo? Il pubblico in l'Opus Dei, pubblico il giorno della canonizzazione di suo fondatore Enrique Balaguer, in cui ha detto che con la canonizzazione di Balaguer, l'economia di marchi fa parte del dogma dell'Eglise catholica. Quindi se fossi un professore di diritto americano direi che si tratta di complicità e non di associazione, potete trovare tutto questo sul sito dell'Opus Dei e anche nel loro annuario, nel loro gazzettino, il giornale dell'Opus Dei. Soprattutto il giorno della canonizzazione del fondatore Opus Dei Balaguer, infatti in questo bollettino fu scritto che con la canonizzazione di Balaguer l'economia di mercato ormai apparteneva ai dogmi della Chiesa cattolica. Allora, adesso sono le sei e io faccio la mia conclusione, ciao buon lavoro, in piedi voi tre. Grazie. Grazie. Grazie a tutti